Carissimi amici Dinosauromania, oggi mi trovo qui in Hipercop davanti a tutti questi fantastici dinosauri perché mi è arrivata una soffiata da un mio amico che appunto mi avvertiva che erano arrivate le novità e qualche dinosauro da poter acquistare per la mia fantastica collezione e quella di mio figlio. E allora ragazzi eccomi qui con alcuni dei dinosauri targati Jurassic World Dominion, vedete qui il Rajasaurus me lo aspettavo un po' più grandicello ma effettivamente le dimensioni sono queste qui abbiamo dei dinosauri che effettuano sia movimenti ma sono anche sonori abbiamo il Triceratops ormai conosciuto un po' da tutti quanti voi continuiamo qui sul retro, vediamo cosa abbiamo, vi faccio vedere un po' di dinosauri in anteprima di questa collezione Jurassic World Dominion vedete lo Scorpio Venator, fantastico anche lui vi faccio un po' una panoramica di questi dinosauri della Mattel Jurassic World Dominion e vi faccio vedere anche un po' il packaging di questi nuovissimi dinosauri che sicuramente molti di voi avranno già iniziato ad acquistare guardate ragazzi Rajasaurus, no questo qui scusate è lo Scorpio Venator invece il Rajasaurus è questo che troviamo qui sul retro ci sono poi vabbè i dinosauri ormai conosciuti come il Carnotaurus Toro della edizione Jurassic World Camp Cretaceous e poi ancora questi altri dinosauri in questa versione che abbiamo già recensito in altri video e che sinceramente non mi avevano poi tanto convinto e poi abbiamo questa versione qui dei piccolini credo costino o 12,90€ o 13,90€ vedete ragazzi, blu sempre Jurassic World Dominion poi abbiamo il Miragaia ed ancora vi faccio vedere un altro po' di novità il Moros Intrepidus guardatelo qui vi faccio un po' di panoramiche guardateli ragazzi non vi nascondo che ho subito acquistato blu nella versione Jurassic World Dominion e poi ancora abbiamo questo Disungarypterus nomi difficilissimi da pronunciare ma guardate ragazzi spettacolare anche questo qui vediamo se trova ancora qualcos'altro qui invece abbiamo le versioni Dino Escape che già conosciamo e quindi per ora ragazzi è tutto e infine ecco qui la novità di quest'anno di Jurassic World Dominion sono questi appunto Minis costano 4,90€ ed all'interno contengono due dinosauri vedete qui due dinosauri all'interno vi faccio vedere un po' il packaging e li trovate in scatole come queste allora ragazzi io con questo video vi saluto vi invito a iscrivervi al canale a lasciare un pollice in su e ci vediamo prossimamente con un unboxing di questi Minis di Jurassic World Dominion ciao e a presto da Dinosauromania ciao